musica 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 ragazzi non mi metti i muri sto per bestemmiare ragazzi non mi metti i muri ragazzi non mi mette porco il troio maledetto bastardo lurido schifoso del cazzo pezzo di merda no? ma se non mi metti i cazzo di muri ma che cazzo posso fa? me metteva i pavimenti me metteva la merda ma solo io non ho questo problema ma poi è normale con uno scavoggio che cazzo musica what? are you kidding? oh my god are you out of your mind? are you out of your mind? are you out of your mind? are you out of your mind with that? musica sei un cretino sei mannaggia a te che hai fatto di male? eh perché? mannaggia checo rianimatemi ragazzi no non ce la facciamo checo se io ti dico se checo però non mi devi fa incazzare perché la chat l'ha visto non ci aveva no non ci aveva visto tu hai incominciato a roteare con quella merda di personaggio bianco che ti ritrovi e gli hai attirato l'attenzione perché l'occhio ci ha visto ah la cambio pure schiena ma no devi stare fermo ma perché ti ho detto di stare zitto ma perché ti ho detto non vi muovete ma un motivo ci poteva essere no? vabbè fate cascare questi stronzi? ma dio raga o li attaccate o non so vabbè ma che ecco ma dove cazzo sei? ma come? posso capirlo vazzi ma te? ho sbagliato io mi ha killato 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 tutti insieme voi tre eh tutti insieme voi tre tutti insieme voi tre oh insieme eh usa doppio pompa insieme eh che co insieme v'ho detto sotto ho 15 di vita ecco non puoi refullarti in qualche modo? no non ho nulla io sta sotto ragazzi non lo perdete di vista ok ok guarda sol dov'è tu? io guardo a destra non andare da solo no mi sembra che si è mosso eh mi sembra che si è mosso ragazzi no no è sotto è sotto è sotto è sotto eh porta lo scendino ok si sta ancora nel container raga tutti insieme ve lo scopate eh vai in safe vai in safe vai in safe io lo sapevo raga non io lo sapevo ragazzi andà più tranquillo no io lo sapevo già avevo visto che erano proprio capaci di giocare contro te questo ha jumpato lui lui non ti farei fortino perchè ti scopa eh 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 cazzo ha mi mandato dei prefine questo bastardo mi vale oh raga io vi giuro raga io vi giuro posso capir io sai ho provato a fare il blind ma cristo dio voi come cazzo se fa raga come cazzo se fa oh my god ok ok i'm on my way NO DUDE MOTHER EGG DUDE AHHHHHH i'm so dumb right now man i don't even know this guy Benj dude can you just help me i need you i said you need the gare PORCOTTI Ma che cazzo fa? Che cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo è la trappola Bene Giovo io Buonasera Sei spalmato Aspettate Morto 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 Oh vabbè lascio Ma sono cazzo è la trappola Oh regà vi giuro non lo so stasera Io vi giuro non lo so stasera Che vuoi fare? Che cazzo vuoi te con sto coso? Ma tu non hai visto che sono morto? Che cazzo vuoi? L'utore è buono L'utore è buono sì He needs an immediate res with the storm coming No no he's alright Oh my god No no he's alright Oh boy They are too east Too east Nooo What? What? I just jumped you saw that right? No you jumped on our screen too It wasn't like it was a desync You literally jumped What? Dai Oh 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 Però sei stato bravo a giocartela eh Eh mi ero fidi materiali Eh pure a me calcola Non l'hai giocata male eh Eh quando il PC funziona ci sto Bravo bravo No ma io sono contento perché non l'hai giocata male Certo Mai rovinato la vita eh No Vabbè prendo dei shittini dai Hai giocato bene Hai giocato bene Cioè che poi già uno è emozionato di giocare contro i fan eccetera eccetera Poi Bizzardo Tutto avevo sbagliato Beh almeno magari mi diverto di più a guardare una persona drogare adesso Tirano granate Lo so zi ma non so dove si ma è sempre lui e marco di king ha rotto il cazzo a costa me però basta hai veramente rotto i coglioni hai veramente rotto il cazzo marco di king mai chiesto scusa prima e mai ricostato un'altra volta ma si ho capito ma non mi puoi gustare sempre ha rotto i coglioni e poi mi fai anche le scuse ma baffanculo marco allora mi prendi per il culo me doni anche capito perché loro sanno dove sto e quello io non so dove stanno loro e quindi mi entrano in pre fire mi tolgono tutta la vita e poi mi ammazzano stavo senza materiali stavo senza pompa non c'avevo niente che cosa potevo fare questo perché sei senza materiali ma ma è normale però capisci ha rotto il cazzo non mi può trovar sempre lui c'è su su una cazzo di mappe enorme mi trova solo marco e no e no adesso starà scrivere qualche stronzata del cazzo adesso si sto rosica ragazzi adesso sto rosica e basta adesso si adesso sto rosica basta non manca basta c'è così sto rosica proprio troppo non mi può trovar sempre lui è impossibile regà che mi trova sempre lui è impossibile è impossibile due partite su due partite mi ha trovato lui no non l'accetto non l'accetto non l'accetto non l'accetto proprio non l'accetto proprio basta almeno gioca basta no ma tanto sono uscito basta la live può finire qua basta se devo giocare così e poi incazzarmi dopo uno che mi chiede anche scusa capito mi chiede anche scusa e poi mi ricosta e poi mi ricosta no non ci sto no ma quittato facesse quello che cazzo che gli pare non mi interessa sinceramente no non ci sto mi dispiace non ci sto così non si può giocare prenderò provvedimenti assolutamente non verso di marco verso il delay della live assolutamente quindi fortnite vittoria contro fan server privati perché se mi devi costare allora no cioè non l'accetto tutto il bene del mondo non l'accetto no 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 che poi mi dicono pure scarso capito un chat perché cercano di farmi arrabbiare alcuni cioè dopo che io ho fettato tre persone le ho ammazzate tutte e tre console è stata una bellissima fight mi arrivano tre granate dentro al bo cioè regà mi ha tirato le granate dentro al bosco che lui non mi vedeva si è camperato dietro un albero aspettato che io gli passassi vicino mi ha tirato tre pompate e poi io sono scarso basta basta mi dispiace da adesso in poi so che devo mettere il delay per qualsiasi cosa sia contro gli sponsor e sia contro quelli normale basta qual è il problema mi dispiace un casino mi dispiace un casino mi dispiace veramente un casino e non va bene e non va bene ciao ciao ciao